Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura alla politica cittadina. Arriva dai consiglieri del Movimento 5 Stelle un invito alle dimissioni in occasione del Consiglio Comunale, convocato per oggi alle 18 a Palazzo Baronale, è l'ultima opportunità per andare al buto tra due mesi. Spazio poi alla cronaca, controlli ad alto impatto dei carabinieri a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi, identificate 91 persone e controllati 61 veicoli. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, si registra un'ulteriore riduzione dei casi. Restiamo in tema, ennesimo appello al senso di responsabilità e a vaccinarsi rivolto dal governatore della Campania Vincenzo De Luca ai più giovani, soprattutto in vista della riapertura delle scuole in presenza a settembre. in chiusura, ritorniamo a Torre del Greco, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di soggetti che possano organizzare eventi nell'ambito della rassegna Agosto a Torre del Greco. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Vincenzo Salerno, consigliere comunale. Oggi in programma un'altra seduta del Consiglio comunale, dal Movimento 5 Stelle, un appello, un invito ai consiglieri comunali, ascolta il Consiglio, diserta il Consiglio. Che cosa sta succedendo? Il nostro appello non è di disertare il Consiglio sicché è semplicito, ma di disertare per protocollare in maniera contestuale le dimissioni. Perché con 13 dimissioni contestuali, qualora dovessero arrivare quest'oggi, si avrebbe la possibilità di poter andare alle urne già subito dopo l'estate. Le criticità sono un po' in tutti i campi. L'amministrazione in questi tre anni ha dimostrato di aver fallito un po' ovunque. L'unica nota rimarchevole fino a un certo punto è stato il cambio di gestione dal sistema Borrillo di raccorta differenziata che era un unicum nel suo genere e anche ancora sotto la lente di approfondimento da parte di altri, al porta a porta. Non è solo l'igiene urbana, c'è una criticità quotidiana all'ufficio anagrafe, c'è un immobilismo all'urbanistica, non c'è un piano di sviluppo turistico, territoriale e di ripresa cittadina. Non ci sono luci accese in fondo al tunnel. Come ha scritto stamattina sui social il sindaco, vogliamo vedere chi dimostrerà il proprio valore, anche se non è in piazza all'appuntamento che si parrà la nobilità dei presenti, ma andremo a vedere chi è che dimostra di non avere a cuore la città e quindi di avere poco valore presentandosi in consiglio e continuando a portare avanti e ad appoggiare questa amministrazione fallace. Dall'insediamento di questa amministrazione palomba, che cosa ha fatto invece l'opposizione per pungolare la maggioranza? Noi abbiamo avuto dei comportamenti costruttivi fin quando c'erano le possibilità di poter proporre o aggiustare il tiro di alcune situazioni. Quando vedevamo delle situazioni totalmente contrarie al nostro modo di vedere e all'interesse collettivo, secondo la nostra opinione, abbiamo cercato di opporci con tutte le nostre forze. Secondo lei le altre forze di opposizione aderiranno a questo appello del Movimento 5 Stelle? Mi è sembrato di aver sentito già che ci sarà annunciata la presenza del collega Cardarola, Ciavolino, Piccirillo, Guarino Vittorio. Poi c'è curiosità nel sapere la posizione che prenderà Forza Italia. Sono curioso di sapere poi soprattutto chi della maggioranza o dei transfughi dall'opposizione alla maggioranza avranno rivalutato anche l'operato di questi sei mesi e abbiano effettivamente maturato una convinzione che, ripeto, è diffusa in città perché sfido chiunque a dirmi un settore in cui l'amministrazione ha davvero inciso in positivo. Controlli ad alto impatto tra Torre Annunziata e comuni limitrofi. In azione i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, congiuntamente ai militari del X Regimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, identificate 91 persone e controllati 68 veicoli. In particolare Torre Annunziata e i carabinieri della centralissima piazza Imbriani hanno sorpreso e denunciato una cittadina ucraina 48enne alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebrezza. A Bosco Trecase invece i carabinieri hanno denunciato un 48enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo coltivava nel giardino sul retro della propria abitazione una pianta di marijuana alta circa un metro, protetta dall'esterno mediante un sistema di videosorveglianza. A Bosco Reale, infine, è scattata la denuncia anche per un 51enne venditore ambulante di articoli domestici. L'uomo è stato sorpreso in possesso di due chilogrammi di sigarette multimarca di contrabbando, occultati tra la merce esposta in vendita tra le bancarelle in strada. Lieve calo dei contagi nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, si registrano due nuovi positivi, di cui uno in regime ospedaliero. Sono invece sei le persone guarite. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 94 attualmente positivi, di cui 17 ospedalizzati. Sono dieci i cittadini di Castellamare di Stabbia risultati positivi al coronavirus dal 18 al 26 luglio 2021. Solamente una persona sta accusando sintomi lievi della malattia. Sono stati lavorati complessivamente 660 tamponi, per cui la percentuale di nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è all'1,5%. Sono otto invece i cittadini di Castellamare guariti. Nel comune di Torre Annunziata, invece, nessun nuovo caso di contagio da Covid-19 a fronte di 50 tamponi processati. Al contempo si registra una guarigione. Sono 25 dunque i cittadini attualmente positivi. Finirà il Covid. Finirà. Finirà tanto prima quanto più saremo responsabili. Ennesimo appello alla responsabilità del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Un monito rivolto soprattutto ai più giovani. Nella gerarchia dei valori la vita viene prima di tutto. Ci vuole tanto a capirlo. E più siamo responsabili, più ritorniamo alla piena attività economica e soprattutto più ritorniamo a una dimensione di vita umana. Perché abbiamo dimenticato che cosa è un abbraccio, una stretta di mano, un bacio da dare ad una nipotina o a qualcuno, perché hai paura tu per primo di poterle fare del male. Non fate gli scapigliati, lo dico ai giovani e ragazzi, a sera, a notte, a morire, davvero. Un invito ad essere più responsabili e un invito a vaccinarsi, elemento imprescindibile per la riapertura delle scuole in presenza. La Regione Campania è la prima in Italia per il numero di personale scolastico vaccinato. La mascherina è un piccolo sacrificio ma che poi dà un grande aiuto, per l'amor di Dio. Ci vuole la vaccinazione. Ma muoviamoci anche perché dovremo aprire questa volta in presenza l'anno scolastico, se no diventa una tragedia doppia anche dal punto di vista dei prezzi educativi che paghiamo. Ma per aprire in sicurezza l'anno scolastico occorre vaccinare tutti. Siamo la prima regione d'Italia per la vaccinazione del personale scolastico, docente e non docente, ma abbiamo ritardi. Ne parlavo con i direttori delle nostre asla nella vaccinazione dei giovani. Sono ancora pochi quelli che si stanno iscrivendo rispetto ad altre regioni. È vero che qui il clima è bello, il mare, le spiagge, il cilento, le costie. Eh oh, ma giovanò. Bisogna vaccinarsi altrimenti non apriamo le scuole. Come bisogna dirla sta cosa? È chiaro, ha detto a margine di una visita a Rione Terra di Pozzuoli, che se vogliamo arrivare in tranquillità al nuovo anno scolastico, noi dobbiamo vaccinare l'80% della popolazione studentesca. Quello che non facciamo adesso lo dobbiamo fare ad inizio agosto, a fine agosto e soprattutto nel mese di settembre. Che sia chiaro a tutti, ha aggiunto, se non ci sono le condizioni di sicurezza, le scuole non aprono in presenza, si devono vaccinare. Non è un obbligo perché questo lo decide il Governo nazionale. Se abbiamo in un istituto scolastico solo il 10% dei ragazzi vaccinati, si fa la scuola a distanza. Non c'è niente da fare. Non possiamo creare i focolai con le nostre mani. Occorre un impegno straordinario che serve innanzitutto ai ragazzi e alle ragazze per andare finalmente a scuola ed avere una vita tranquilla. Bisogna fare uno sforzo in più. Per quanto ci riguarda, apriremo quando saremo tranquilli. Il Comune di Torre del Greco accaccia gli organizzatori di eventi per l'estate. L'amministrazione comunale ha intenzione di realizzare nel prossimo mese di agosto, a partire da lunedì 16, alcune iniziative presso le strutture allestite in Villa Macrina, che rappresentino un momento saliente delle attività culturali e turistiche di questo territorio. I soggetti interessati dovranno presentare progetti inerenti musica e comicità. Saranno 10 le serate previste. Possono partecipare associazioni, fondazioni, comitati, enti, società con capacità di gestire ed organizzare eventi. I progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 agosto. Per info, dettagli e modulo di domanda, consultare il sito del Comune Editore del Greco, nella sezione Urp Informa. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete scriverci all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani.